Buongiorno e benvenuti all'ISOP, siamo alla GT Poker di San Marino dove alle 14 è iniziato il day 2 di questo ISOP DEX 2. Ci troviamo all'interno della Poker Room e della Giochi del Titano, 209 sono stati gli entries totali in questo ISOP DEX 2, 108 sono i giocatori left che si daranno battaglia per una prima moneta di oltre 14.000 euro. Sono ripartiti da livello 12, bui 12004, ante 300 e giocheranno fino allo scoppio della bolla. Vi ricordo che per il blog live lo potete seguire al sito pokerfactor.org e vi rimando l'appuntamento a più tardi dove intervisteremo il chip leader di questo day 2. Grazie a tutti!